Prendi due esigenze apparentemente opposte, l'esigenza della comunità di Nassau di difendere il proprio presidio di Cesarira, l'esigenza della regione Puglia di ricostruire il sistema della salute qualificando la rete Cesarira come rete di eccellenza e invece distribuendo nel territorio servizi sotto assistenziali di città territoriale. Liegare ai cittadini che è meglio avere ottimi servizi dal punto di vista ambulatoriale dell'assistenza domiciliare che un piccolo ospedale che non funziona. Su questa difficoltà di comprensione reciproca regione Puglia e comuni di Nassau hanno continuato a parlare. a studiare, a vedere quali erano le soluzioni migliori. Credo che abbiamo trovato soluzioni per cui quello che si chiude, quello che si manda in assidio non sarà rinviato perché quello che si mette in città è molto meglio dal punto di vista della risposta immediata alla domanda di Cesarira. Per questo oggi abbiamo segnalato quello che è anche un atto di parte, diciamo, io con il Marcello Rizzo, il sindaco di Nardò e per una comunità, come voglio dire, a cui io rivolgo sentimenti di particolare affetto e di particolare stima per la bellezza e per la storia di quel territorio, di quella città. credo che oggi abbiamo dato una buona notizia. Grazie.